Fedez e la nuova fiamma. Come dite? Sembra un déjà vu? Beh, effettivamente in questa estate non è la prima volta che il rapper viene pizzicato in compagnia di una donna. Dopo la separazione da Chiara Ferragni al cantante, sono state accostate diverse, nuove fiamme. Ma forse nessuna è riuscita ad accendere il fuoco dell'amore vero. All'inizio si era parlato della modella Garance Otie con la quale Fedez è apparso in diverse occasioni. Poi l'artista è stato beccato in una masseria in Puglia in compagnia di Sveva Magatti, ventienne studentessa di interior design. Ma si sarebbe trattato anche in questo caso di una frequentazione passeggera. Tanto che adesso si parla di un'altra donna, stavolta modella e attrice 22enne che avrebbe rapito il cuore di Fedez. Sarà la volta buona. E chi lo sa, intanto lui continua a divertirsi. Chi è la ragazza bresciana al fianco di Fedez? Galeotta è stata una festa organizzata proprio da Fedez in Sardegna. Il rapper milanese, al secolo Federico Leonardo Lucia, dopo alcuni problemi di salute, ha voluto fare le cose in grande, almeno a sentire la sua descrizione, il miglior after della storia della Costa Smeralda organizzato in quattro ore, ci dicevano impossibile da fare. Gli ingredienti, tanta passione e un gruppo di amici in vacanza. Al fianco di Fedez è apparsa un'altra l'ennesima nuova fiamma in atteggiamenti inequivocabili. Il primo a parlarne è stato l'esperto di gossip Gabriele Parpiglia, firma tra l'altro del settimanale Chi, il re della Costa Smeralda nonché colui che, secondo lui, ha scritto la storia dell'isola, dopo il party, di cui si attendono spiegazioni, al calar della luna, la protagonista di un altro flirt, NDR, ha fatto sorgere la 22N Giulia, Santin, NDR. La festa ha provocato polemiche. Se si tratta di una festa privata organizzata per più di mille persone, a giudicare dai video, con un biglietto d'ingresso, diventa una festa completamente abusiva, ha commentato Pietro Muresu, il presidente per la Sardegna del sindacato dei titolari delle discoteche. Ma chi sarebbe questa Giulia Santin? Classe 1989, Bresciana, modella e attrice appassionata di sport e già protagonista di qualche apparizione teatrale, nei teatri di Brescia e dello, cortometraggi e videoclip, riporta Brescia Today.